Ciao a tutti, ieri sera finalmente mi sono deciso e ho chiuso anche Twitter, che adesso è il nuovo X. X con la gestione Elon Musk ha dato largamente spazio alle bufale e coloro che prima ti offendevano, ti auguravano la morte perché eri vaccinato, eccetera, adesso lo fanno ancora di più impuniti perché qualsiasi cosa segnali non vieni neanche considerato, ho segnalato un account che come sua filosofia è anche scritto come teoria che gli omosessuali andrebbero bruciati nei forni come gli ebrei, la risposta di X è stata che non viola le norme della community. Se quello non viola le norme della community mi dovrebbe sapere cos'è che viola le norme della community. E a questo punto, anche ieri sera, parlando tranquillamente con due persone, ho visto entrare una quarta persona a darmi della merda. Io ho considerato il fatto che penso che fa così, non abbia un gran cervello, non mi sono messo neanche a discutere. Allora lui mi ha ridato della merda e io l'ho semplicemente salutato, tante note discute con certa gente. D'altra parte però, c'hai chi ti viene a insultare per i vaccini, c'è chi ti viene a insultare perché dice che devi morire per i vaccini, c'è chi ti viene a insultare e augura di morire perché sembra che tu sia di destra, alcuni ti viene a insultare perché sembra che tu sia di sinistra, cioè comunque ora è tutto un litigare su tutto. Quindi ho chiuso anche X, gestione nuova di Elon Musk che non mi piace assolutamente, e darò più spazio a YouTube, al mio account Pinterest e soprattutto al blog, dove da qui in avanti invece di scrivere i tweet farò degli articoli sul blog e niente, ci sentiremo lì. La mia mail è questa, per chiunque vuoi scrivermi, per qualsiasi cosa la mia mail è questa. Ciao a tutti!